Nel cuore di Assolo ci celebra annualmente una delle feste religiose più suggestive e antiche, la festa di Maria Santissima degli Angeli. Questa tradizione che affonda le sue radici nel XIX secolo rappresenta un esempio straordinario di come la fede popolare possa resistere al tempo e alle trasformazioni culturali. La storia di questa celebrazione inizia nel 1622 quando i padri francescani riformati eressero la chiesa di Maria Santissima degli Angeli e il convento adiacente su quello che era un piccolo edificio sacro preesistente. Questo avvenne in un periodo di rinnovato fervore cattolico successivo alla riforma protestante che aveva messo in discussione molte pratiche devozionali. La festa vera e propria tuttavia trova la sua origine formale il 19 marzo 1839. In quella data i 20 padri riformati di San Francesco residenti nel convento stipularono una convenzione con la quale si impegnavano a condurre una processione pubblica ogni terza domenica di agosto camminando a piedi scalzi per accrescere il culto e la devozione a Maria Santissima degli Angeli. Il cuore pulsante della celebrazione è la confraternale dei nudi di Angeli, i cui membri portano in processione a piedi nudi il pesante fercolo della Vergine. La statua Ligna è un capolavoro d'arte barocca spagnola e custodita su una vara riccamente adornata di lampiuna prismatici. I confrati indossano un caratteristico gonnellone maschile di panno ruvido lungo fino alle caviglie e di un bianco immacolato. È interessante notare che dal 2000 anche le donne sono state ammesse a far parte di questa antica istituzione religiosa segnando un importante passo verso l'inclusività. Il giorno della festa il fercolo esce dalla chiesa di Maria Santissima degli Angeli tra grande emozione e devozione in un gesto di straordinaria dedizione. I confrati scavalcono un muro portando sulle spalle la pesante statua. La processione raggiunge poi piazza Francesco Crispi dove la Madonna viene omaggiata dagli standardi in un successivo rituale di riverenza. Durante il percorso di ritorno la statua fa una sosta nella Basilica di San Leone per un momento di preghiera e benedizione. All'uscita il cielo si illumina di fuochi d'artificio creando uno spettacolo di luci che accompagna la risalita verso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Prima del rientro finale i devoti compiono nuovamente l'atto di scavalcare il muro simbolo di sacrificio e devozione. Questa festa rappresenta non solo una manifestazione di fede profonda ma anche un importante elemento di identità culturale per la comunità di Assolo. La sua continuità nel tempo testimonia la capacità delle tradizioni religiose di adattarsi e rinnovarsi mantenendo vivo il legame tra passato e presente.